Sono 26 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione Cala S.p.A., eseguita dalla direzione distertuale antimafia di Palermo, tra loro banchieri, avvocati, commercialisti, consulenti finanziari, cracker informatici, imprenditori e perfino esponenti delle forze dell'ordine. Tutti coletti bianchi smascherati grazie a intercettazioni che hanno rivelato truffe alla banca Monte dei Paschi di Siena e a diverse finanziarie. Dimostravano la disponibilità di valuta estera ed emettevano false polizie fideiussorie internazionali a copertura di operazioni che però non andavano mai a buon fine. Tra gli arrestati è anche un ex agente della Polizia di Stato che sarebbe accusato di aver violato il sistema informatico del Ministero dell'Interno. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati beni per un valore di circa 10 milioni di euro.